Notizie positive per la sanità molisana arrivano dalla conferenza delle regioni che ha deliberato il Fondo di solidarietà per il risanamento dei conti del Molise. 73 milioni in tre anni così ripartiti, 30 milioni di euro confermati per il 2015, 25 milioni per il 2016 e 18 milioni per il 2017. Un altro segnale di attenzione per noi importantissimo ha commentato il governatore Paolo Frattura. Siamo grati alle regioni per quanto accordato e riconosciuto al Molise. Le regioni, ha continuato il Presidente, fanno la nostra stessa scommessa, investono con noi nel rilancio della sanità, entro il 2018 l'equilibrio finanziario. Ottimista il governatore si è detto sicuro di riuscirci, grazie a un lavoro di squadra che vede impegnati tanti professionisti. La notizia importante è arrivata nel corso della seduta che ha eletto il governatore dell'Emilia Romagna, Bonaccini, nuovo presidente della conferenza delle regioni. Ora, a seguito dell'incontro per la verifica degli adempimenti previsti dal piano di rientro dal disavanzo sanitario, la regione Molise è impegnata a far fronte alla nuova richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero la mappatura dettagliata e aggiornata della situazione debitoria, rivalutata alla luce dei nuovi contratti con i privati. La priorità resta quella dei precari. Una via d'uscita potrebbe essere proprio quella dell'emendamento al disegno di legge stabilità approvato in commissione bilancio che consentirebbe anche al Molise, che è in piano di rientro, di prorogare i contratti che scadono il 31 dicembre. L'emendamento portato in Parlamento dall'On. Laura Venitelli consentirà di assumere personale per far fronte sia alle norme dell'Unione Europea che impongono rigidi limiti dell'orario di lavoro, recepite dal nostro Paese il 25 novembre scorso, sia al diritto dei malati e dei tanti professionisti che lavorano da anni a servizio della sanità molisana. Con questa misura, ha spiegato la parlamentare DEM, le regioni potranno partire subito contrattualizzando gli operatori sanitari a termine, per poi dal prossimo giugno mettere a concorso i posti a tempo indeterminato, anche in deroga la legge 125 del 2013, che richiedeva per la stabilizzazione il triennio maturato a settembre 2013.